Così viene descritta la villa di Ciro Menotti, oggi in uno stato di abbandono totale, situata a Spezzano, nella frazione del comune di Fiorano Modenese, vincolata dalla soprintendenza, ma oggi immersa nella vegetazione incolta a rischio al crollo. A lanciare l'allarme un gruppo di cittadini che hanno deciso di attivarsi per salvare la memoria del patriota modenese che pagò con la vita la sua adesione ai valori risorgimentali. Vergognose, disastrose e vergognose per la memoria di Ciro Menotti e anche per, penso, la città di Modena, dove Ciro Menotti ha fatto quello che ha fatto, è stato capace di fare quello che ha fatto e ovviamente anche per il comune di Fiorano che ce l'ha. Sta corollando, sta corollando, è molto semplice, ma sono anni che si sa, non lo dico, non lo scopriamo oggi, diversi anni dal 2016 che personalmente me ne occupo. Ultimamente abbiamo fatto un esposto per chiedere di mettere la mena in sicurezza, di scongiurare il crollo, c'è una nuova proprietà da novembre 2021, almeno metti la posta, chiudi con le finestre perché ci piove dentro, ci viene la neve, l'inverno sta arrivando e una volta che è crollata, poi è finito tutto, c'è l'offesa, la memoria di Ciro Menotti e poi finiscono tutti i vincoli l'intorno. Una vicenda che va avanti ormai da diversi anni e che al momento ancora non trova una soluzione a denunciare lo stato di abbandono dell'area circostante e la villa anche il WWF. Quello che ci terrei anche a far vedere è che è immersa in una situazione abbastanza bella in un'area pedicollinare con un parco meraviglioso che sta purtroppo cadendo. Noi come WWF vorremmo anche mettere l'attenzione sulla tutela del parco stesso della villa che sono centinaia di metri con degli alberi secolari maestosi, quindi anche alcuni di specie che non si trovano più insomma molto comunemente nelle nostre campagne.